Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nella crescita del fondo fondamentalmente un criterio che abbiamo seguito è innanzitutto aumentare la diversificazione degli investimenti. Noi non gestiamo direttamente gli asset ma abbiamo dei gestori delegati, al momento sono nove gestori delegati. E uno degli ultimi cambiamenti che abbiamo effettuato è stato nel 2016 passando a delle gestioni total return. Questo abbiamo potuto quindi slegarci da quello che è il vincolo implicito dato da un benchmark, abbiamo fissato una rischiosità massima per diverse linee di investimento e abbiamo chiesto ai gestori di investire in maniera più dinamica nelle varie asset class a cui abbiamo dato la possibilità di investire. Un ulteriore passo che è stato fatto è stato quello di ampliare le asset class al momento liquide per esempio investendo anche in high yield e in emerging market. Un altro tema che è stato al centro del dibattito riguarda i criteri ISG che anche i fondi pensione stanno approcciando con grande interesse e il tema dell'economia reale su cui anche voi volete essere sostenitori a supporto dell'economia reale. Assolutamente, sui due temi come età uno per quanto riguarda l'ISG abbiamo una forte esperienza su questo argomento. Nel 2010 come età ha aderito ai TRI, i principi di investitore responsabile lanciati dall'ONU e nel 2012 abbiamo adottato i nostri criteri di sostenibilità e ci muoviamo su quel solco. Fondamentalmente lo strumento che ha individuato cometa per la sua attività di sostenibilità è l'engagement quindi il rapporto con le aziende su cui noi siamo investitori per aumentare la consapevolezza su criteri di sostenibilità e di ambiente, governance e socialità. Sul secondo tema che in realtà poi si lega fortemente anche sulla sostenibilità è l'investimento in private markets e in quelli che sono gli investimenti sui mercati privati. Su questo cometa ha iniziato una forte discussione interna. La volontà è quella di capire all'interno della nostra asset allocation come introdurre questo tipo di investimento e soprattutto riuscire a trovare la quadra, rispondere alle necessità di rischio performance dei nostri aderenti e anche non tralasciando un investimento nel tessuto industriale italiano. Perfetto, sono dei passi in avanti, un paradigma che si sta evolvendo e noi cercheremo di dare testimonianza invitandola nuovamente a parlare anche nei nostri studi. Io ringrazio nuovamente Libero Giunta per essere stato qui con noi e per il momento da Palazzo Mezzanotte è tutto, cedo la linea allo studio. Grazie. 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 Grazie.